Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che qualcuna di voi mi ha consigliato nei commenti sotto un video precedente. Sono qui per parlarvi di un tragico fatto avvenuto in Italia il 30 agosto del 2013. Siamo a Gambara, un piccolo comune della bassa bresciana, quando i carabinieri raggiungono la sede della Alpi Aviation do Brasil per una sospetta fuga di gas. Entrando nell'ufficio i miei militari fanno una macabra scoperta perché trovano il corpo senza vita della 29enne Marilia Rodriguez, una segretaria brasiliana che lavorava per la società di Claudio Grigoretto e Roberto Tomellini. Il busto e la gamba destra della donna sono coperti da carta di giornale bruciata. Altrettanta cartacea si trova nel cestino vicino al corpo. Il corpo di quella giovane donna presenta delle ferite sul volto e un taglio alla testa con del sangue ragrumato. Accanto al corpo sono presenti due bottiglie vuote, una di acido muriatico e una di ammoniaca. Il contenuto dei flaconi è stato sparso sul corpo e sul volto della ragazza. Sul pavimento viene anche ritrovato un suo orecchino a forma di fiore. E in quell'ufficio in effetti sono anche presenti degli scatoloni con gli effetti personali della segretaria. Valigie con all'interno scarpe, medicine, vestiti. Il suo cellulare è sulla scrivania. Sopra il divano dell'ufficio è installata una caldaia che presenta il bullone del tubo a gas svitato. Prima di adentrarci in questo caso e prima di parlarvi del processo è necessario rispondere ad una domanda. Chi è Marilia? È una ragazza brasiliana e viene in Italia da appena 16 anni per raggiungere sua madre, Natalia Maria Silva Sant'Angelo Lodigiano. Dopo il diploma Marilia vive a Reggio Carabria con sua madre. Poi si trasferisce a Borgo Satollo in provincia di Brescia per stare insieme al suo fidanzato Andrea Righi. Intanto però il tempo passa e le cose in me cambiano. La madre di Marilia torna in Brasile mentre la sua lunga storia d'amore con Andrea Righi termina. Marilia a questo punto viene assunta come hostess alla Air Dolomiti. Ma nel frattempo risponde anche ad un annuncio per un lavoro che trova su internet di un'azienda di nome Alpi Aviation do Brasil. È qui che entra in azione il secondo protagonista della nostra storia, Claudio Grigoletto. L'uomo nasce a Saronno. È un pilota di aerei commerciali, istruttore di velivoli ultraleggeri e manutentore. Nel 2011 apre una scuola di volo a Bedizzole. L'anno dopo, a soli 31 anni, decide di aprire un'attività per la vendita di aerei ultraleggeri in Brasile. Gli uffici di questa società sono situati a Gammara e il piano è quello di aprire nel settembre del 2013. Claudio Grigoletto e Marilia si conoscono appena dopo l'estate del 2012, proprio quando l'uomo e il suo socio aprono questa azienda intenzionata a sviluppare un progetto in Sud America, più precisamente in Brasile. Si conoscono quindi proprio grazie a quell'annuncio pubblicato su internet, atto a reperire del personale. È proprio a quell'annuncio, infatti, che risponde Marilia, la quale viene scelta immediatamente perché soddisfa i requisiti e richiesti. Marilia, infatti, in quell'azienda avrebbe dovuto fare da interprete, ma non solo. Avrebbe dovuto anche entrare in società come socio brasiliano, inserito nel territorio e nel mercato brasiliano dell'aviazione. Non conoscendo la ragazza, inizialmente c'è solo una collaborazione, anche per poterla vedere a lavoro, sentire le sue idee. A febbraio 2013 Marilia viene assunta con uno stipendio mensile da 1200 euro. Appena viene trovata Marilia senza vita, non si può evitare di parlare di omicidio. La vittima ha dei chiari segni sul corpo che fanno pensare ad un'aggressione. L'autopsia, però, rivela un dato essenziale per le indagini. Marilia era stata schiaffeggiata con forza e poi strangolata, ed era incinta di quattro mesi, quasi cinque. Il medico legale, infatti, mette anche in evidenza una situazione di forte depirimento fisico di Marilia. Il corpo della ragazza, infatti, viene pesato e non pesa più di 41 kg. Marilia era alta 1,70 m. Questa situazione è molto grave, visto il suo stato interessante. L'analisi del profilo genetico del feto dà le prime certezze della fase investigativa. Il padre di quel bambino è Claudio Grigoletto. L'uomo, però, davanti agli inquirenti, nega. Nonostante l'analisi del profilo genetico, sostiene che lui e Marilia mai sono stati insieme, mai hanno avuto una relazione. Gli inquirenti, però, non credono alle parole di Claudio. Anche perché, interrogando le persone attorno a lui, ne emerge un profilo ben chiaro e definito. Claudio era un gran pallista, uno che raccontava un sacco di bugie. Ma, attenzione, non raccontava delle bugie per coprire qualche sua malefatta o cosa del genere. Assolutamente no. Claudio inventava storie su di sé per farsi più bello, dinnanzi agli altri. Non ha mai amesso con nessuno di avere una relazione con Marilia. Ma tutti ne erano ugualmente a conoscenza, sebbene lui negasse anche davanti all'evidenza. E perché Claudio nega di avere questa relazione? Perché non è solo. Claudio Grigoletto è sposato con una donna di nome Jessica. I due hanno già una figlia. E Jessica è di nuovo incinta. Quindi, intorno alla figura di Claudio Grigoletto, nasce inevitabilmente un forte sospetto. Marilia viene ritrovata senza vita nel suo ufficio. Peraltro, mente anche sulla relazione che aveva con quella donna ritrovata morta nel suo ufficio. Ovviamente le autorità mettono sotto controllo non solo il cellulare di Claudio, ma anche il cellulare delle persone a lui vicine. Gli inquirenti devono intercettare le chiamate in attesa di un passo falso, di una conversazione sospetta, di una parola fuori posto. E in effetti, questa chiamata sospetta la riescono a intercettare. È una conversazione tra Stefano Pezzi, un meccanico che occasionalmente lavorava alla scuola di volo di Claudio Grigoletto, e Federica, un'amica e un'allieva di Grigoletto. Intercettando la chiamata del 3 agosto 2013, alle 12.30, gli inquirenti sentono l'uomo che chiama spaventato Federica, dicendo queste parole. Io sono un po' in ansia per una cosa. Faccio manutenzione, finisco, metto via le robe e vedo che manca la chiave inglese tipo pappagallo. E gli dico a Claudio, Claudio, siccome abbiamo le chiavi io e te, hai preso la chiave inglese a pappagallo? Sai che fine abbia fatto? L'ha forse presa qualcuno e non l'ha più riportata? Federica Trebbi dice immediatamente, Stefano vai dai carabinieri, vai dai carabinieri e vogliela dire. Stefano continua dicendo, Eh, poi ho pensato, io l'ho usato quel pappagallo, l'ho usato per aprire la caldaia, però dopo ci sono sulle mie impronte digitali, cazzo. Federica Rivatte, oh vabbè, le tue impronte digitali non c'entrano niente, cioè tu non l'hai... Vai dai carabinieri Stefano, vai dai carabinieri. Gli inquirenti, io sto intendo quella chiamata intercettata, drizzano le orecchie, non tanto perché il pappagallo sia l'arma del delitto, ma perché in effetti sulla scena del delitto è stato trovato un bullone svitato appartenente alla caldaia. E quel bullone viene proprio svitato e avvitato con una chiave inglese tipo pappagallo. Gli inquirenti a questo punto in accordo col PM sentono Stefano Pezzi, lo contattano, e si fanno raccontare la situazione direttamente da lui, così da permettere al PM di organizzare una perquisizione alla veopista di Bedizzole. Gli inquirenti in 448 trovano in un cassetto della scrivania di Claudio, il pappagallo. Accanto al pappagallo c'è addirittura uno scontrino che documenta l'acquisto di due bottiglie di ammoniaca e una di acido muriatico. La data dello scontrino è essenziale, 29 agosto, ore 10 e 30. Quella è la mattina dell'omicidio, Marilia è morta il 29 agosto. C'è l'ammoniaca che l'acido muriatico sono stati versati sul corpo e sul volto della ragazza. Quindi il cerchio inizia a stringersi sempre di più e il colpevole pare proprio che sia Claudio Grigoletto. Ma perché ha fatto questo? Forse non gli andava a genio la gravidanza di Marilia? Dopo all'incirca due settimane, Claudio confessa. È lui colpevole. Si va dunque a processo ed è in questa occasione che Claudio ha la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti. Non tanto dell'omicidio in sé, ma di come si è arrivati a quel punto. La prima cosa che Claudio deve chiarire in aula è la sua situazione lavorativa ed economica. Claudio racconta che nel 2012 la scuola di volo va molto bene, fino almeno all'arrivo dell'inverno. Durante quell'inverno nevica e piove molto spesso. Quindi la scuola che d'estate mediamente faceva 70 ore di volo al mese arriva a farne 30 in 4 o 5 mesi. Dato che le cose non vanno benissimo, Claudio continua a fare il pilota di linea e contemporaneamente cerca di avviare il suo progetto in Brasile. È a questo punto che Marilia entra nella sua vita e poco dopo decidono anche di fare un viaggio per lavoro in Brasile. Ed è proprio durante quel viaggio in Brasile che tra Claudio e Marilia succede qualcosa, i due iniziano una storia. Infatti durante la prima sera in hotel Marilia chiama Claudio nella sua camera in quanto sostiene di non riuscire a collegarsi al wifi. È proprio in questo caso che i due stanno insieme per la prima volta e il wifi passa in secondo piano. Nel frattempo vi ricordo che Claudio non solo è sposato ma ha anche già un figlio e sua moglie è pure in stato interessante. Tornati dal Brasile Claudio e Marilia sono molto coinvolti emotivamente. C'è passione tra di loro. Però entrambi sono consapevoli che Claudio ha una famiglia Marilia invece è single. Nonostante ciò i due comunque non riescono più di tanto a staccarsi. Claudio avrà anche una famiglia con una moglie in stato interessante a casa ma passa sempre più tempo con Marilia. I due dunque non mettono fine la loro relazione fino a quando nel giugno del 2013 Marilia dice a Claudio di essere incinta. L'uomo reagisce con stupore è vero non hanno mai usato protezioni. Marilia aveva detto a Claudio di non preoccuparsi in quanto a seguito di un'operazione per lei sarebbe stato possibile rimanere incinta solo tramite inseminazione artificiale. In tribunale Claudio racconta che quando scopre della gravidanza non si arrabbia affatto. Lui è contento che Marilia sia incinta però dalla realtà non si scappa. Claudio non è single ha una famiglia e a questo punto deve dire a Jessica sua moglie di avere una relazione con un'altra cosa che però non fa. A dimostrazione che Claudio abbia accettato con gioia la gravidanza di Marilia ci sono anche dei messaggi su Facebook tramite chat che lasciano poco spazio all'immaginazione. Infatti Claudio le scrive in tono molto affettuoso non fare stupidaggini non abortire ti prego più palese di così. Il movente potrebbe essere una gravidanza indesiderata una situazione del genere per qualunque essere umano sarebbe stressante con aziende da mandare avanti un'amante incinta una moglie anche lei incinta con già un figlio a casa. Per di più la situazione finanziaria di Claudio non è proprio rosea. L'uomo a processo sfiga che da quando aveva iniziato il lavoro alla scuola di volo e da quando aveva aperto la nuova società la compagnia aerea per la quale lavorava aveva diminuito la flotta da 11 aerei a un aereo quindi aveva per forza dovuto licenziarsi. Ecco perché nel 2012 Claudio inizia a fare l'istruttore di volo a tempo pieno. Però anche in questo caso ci sono dei problemi perché l'uomo non ha aerei né ha solo uno ed è a noleggio. In pratica Claudio si ritrova senza stipendio da pilota di linea paga l'affitto la scuola di volo gli richiede ingenti somme per pagare il carburante e la manutenzione degli aerei perché ancora la società non può ancora farsi carico di nulla quindi tutto è sulle spalle dei soci. Il vero punto di stress a cui è sottoposto Claudio è la sua situazione economica che descrivere è disastrosa e dir poco. Nel 2012 intanto per non farci mancare niente Claudio e sua moglie decidono di comprare una casa. Il proprietario ha la necessità di venderla più presto dunque propone di acquistare immediatamente l'abitazione versando solo una caparra da 20.000 euro. Claudio però non ce li ha tutti quei soldi quindi il suo padre decide di dargli una mano pagando per lui la caparra firmando il rogito Claudio si impegna a pagare l'immobile di 90.000 euro entro l'anno. Claudio a questo punto è immerso in un mare di problemi è stressato non ha soldi non sa come fare per andare avanti non sa come mantenere la sua famiglia il suo lavoro è troppo precario quindi prende una decisione lascia Marilia Claudio dice la donna che la loro relazione non sarebbe continuata ma lui si sarebbe comunque occupato del bambino in tribunale infatti Claudio dice queste parole avrei fatto di tutto per occuparmi di lei e del bambino anche perché era mio figlio non era solo suo però logicamente doveva essere consapevole delle difficoltà economiche in cui versavamo se è io che è lei quindi da una parte o dall'altra dovevamo venirci incontro io ero disposto come avevamo fatto nei mesi precedenti a darle una mano con l'affitto a darle una mano per fare la spesa il carburante in medicinali peraltro per un mese e mezzo Marilia non ha ricevuto stipendio quindi ero io che le pagavo l'affitto la spesa sempre nelle mie possibilità di quel momento di questa storia però c'è anche un'altra versione che non può essere evitata Marilia va in giro presentandosi come la compagna di Claudio Grigoletto siamo sicuri dunque che Claudio abbia lasciato Marilia siamo sicuri che in realtà non le abbia promesso di lasciare sua moglie per restare con lei questo dubbio è lecito e Claudio in aula sostiene di non saperne nulla Marilia andava in giro a dire che stavano insieme che erano compagni lui proprio non ne aveva idea oltre a ciò si aggiunge un ennesimo problema la gravidanza di Marilia è tutto fuorché semplice a luglio infatti inizia a non stare bene alla nausea spesso vomita e perde peso perde troppo peso col tempo inizia anche ad avere dei dolori allo stomaco non riusciate a tenere niente vomita tutto ciò che mangia Claudio quindi la accompagna spesso anche in ospedale in tutto in ospedale Marilia viene ricoverata tre volte no la sua gravidanza non è affatto semplice e Claudio è sempre presente e ha gli atti che Claudio si occupasse davvero di Marilia e della gravidanza tanto che quando esce dall'ospedale va a casa di Federica Trebbì l'allieva amica di Claudio che era stata intercettata dagli inquirenti le cose però si complicano notevolmente quando ad agosto nasce la seconda figlia di Claudio l'uomo si allontana diventa un po' più freddo nei confronti di Marilia cerca di stare più a casa con la famiglia dà una mano a sua moglie e cerca di godersi il più possibile la figlia questo distacco Marilia quanto pare a quanto dice Claudio non lo prende male capisci insomma la situazione Claudio deve stare con la sua famiglia con sua moglie non passa molto tempo però ed ecco che arriva un altro problema Marilia deve trovare una casa infatti prima della relazione con Claudio Grigoletto Marilia viveva con il suo ex Andrea e aveva anche continuato a rimanere lì Marilia ma ora non poteva più permettersi l'affitto come vi ho già detto poco fa per un po' va a stare da Federica l'amica di Claudio e anche qui ben presto sorge un ennesimo problema Marilia litiga pesantemente con Federica quindi quest'ultima le chiede di radunare le sue cose e di andarsene da casa sua e dunque il 16 agosto Marilia si ritrova da sola incinta con una gravidanza difficile in corso e senza una casa in cui andare Marilia deve per forza trovare un posto dove stare dove dormire Claudio però è parecchio impegnato quindi le prenota una camera all'hotel Sullivan a Ponte San Marco dicendole di cercare degli annunci su internet poi lui le avrebbe accompagnata a vedere i vari appartamenti in effetti così vanno le cose Claudio accompagna Marilia a vedere proprio tre appartamenti il primo è a Gambara e il proprietario di quell'appartamento è un amico di Claudio che già gli aveva affittato proprio quell'appartamento in precedenza a Marilia però quell'appartamento non piace c'è da sottolineare però che quella sarebbe dovuta essere una situazione temporanea perché la ragazza sarebbe dovuta partire per il Brasile e fermarsi lì col fine di gestire gli affari dell'azienda almeno così dice Claudio prima di questa benedetta partenza però Marilia deve trovare un posto dove stare in tutto Marilia e Claudio vanno a vedere tre appartamenti come vi ho già detto quello di Gambara a Marilia non piace vanno poi a vedere due appartamenti a Ciliverghe una frazione del comune di Mazzano in provincia di Brescia il primo appartamento che vedono a Ciliverghe è un trilocale costa 800 euro al mese e non è ammobiliato mentre il secondo appartamento è un bilocale è già ammobiliato e costa decisamente di meno Marilia vorrebbe andare a vivere a Ciliverghe ma nell'appartamento più caro nell'appartamento da 800 euro stando a ciò che dice Claudio Marilia pretende di andare a vivere in quel trilocale Claudio le fa notare che quella non è che sia una situazione ideale in quanto il bilocale è già ammobiliato e non costa così tanto soprattutto Marilia però insiste lei vuole andare ad abitare nel trilocale ed è a questo punto che iniziano a presentarsi le prime discussioni a detta di Claudio sono quelli i primi veri screzzi tra lui e Marilia la quale diventa sempre più capricciosa ed esigente Claudio insomma fa di tutto per rendere la sua vita quantomeno accettabile e infatti decide di farla soggiornare in attesa di una sistemazione definitiva come già vi ho detto all'hotel Sullivan a Ponte San Marco posto in cui Marilia rimane fino al 29 agosto del 2013 il giorno in cui perderà la vita il 25 agosto Jessica la moglie di Claudio riceve un messaggio qualcuno tramite quel messaggio l'avvisa del fatto che Marilia è incinta di Claudio e che presto i due si sarebbero sposati Claudio fino a quel momento ha tenuto tutto nascosto alla moglie ed effettivamente è proprio a questo punto che va in panico sa che Jessica potrebbe lasciarlo e lui non vuole perdere la sua famiglia quindi prova a dirle altrettante palle infatti Claudio dice a Jessica che quelle sono solo male lingue lui non è mai stato con Marilia Jessica però non ci crede sospetta da tempo che tra Marilia e Claudio ci sia qualcosa probabilmente è proprio in questa situazione lasciatemelo dire pietosa che matura l'omicidio di Marilia anche se Jessica non fa nulla per scoprire se Claudio la tradisca ha un dubbio è sospettosa e quel dubbio preferisce tenerselo perché la verità potrebbe rivelarsi molto molto amara la mattina del 29 agosto Claudio si alza per recarsi in ufficio mentre Marilia lascia l'hotel Sullivan per spostarsi all'hotel Gambara che è decisamente più vicino all'ufficio Marilia parte dall'hotel Sullivan alle 11.15 e arriva in ufficio alle 12.05 la donna quindi arriva parcheggia entra in ufficio e si stende un attimino sul divano perché non sta troppo bene come al solito e per di più fa tanto caldo quel giorno a questo punto Claudio le dice visto che hai lasciato l'hotel Sullivan adesso vediamo un attimino di sistemare l'ufficio Claudio quindi inizia a parlarle di lavoro e di ciò che avrebbero dovuto fare per far finalmente partire il progetto poi aggiunge entro sera sistemiamo anche la faccenda dell'hotel anche se credo che la soluzione migliore sia il Gambara Hotel se più vicino all'ufficio però dobbiamo anche risolvere il problema della casa Claudio cerca di convincere Marilia ad andare ad abitare nel bilocale che è già arredato quindi nell'arco di circa 10 giorni sarebbe stato già disponibile ed è proprio da questo momento che i due iniziano a litigare pesantemente inizialmente le digano per la casa poi le acque si calmano un attimino e Claudio le chiede nuovamente se può lavorare per la documentazione dell'azienda in quanto bisogna vedere tutte le email e i documenti arrivati insomma è necessario far partire questo benedetto progetto Claudio quindi dice a Marilia guarda ti metti lì stampi tutte le email poi col portoghese scritto me la cavo io ci penso io Marilia a questo punto si arrabbia ancora di più perché Claudio la vuole far lavorare e lei è incinta e non sta neanche troppo bene Claudio però non accetta questa presa di posizione di Marilia quindi le chiede cortesemente di iniziare a stampare le email e di fare il suo lavoro Marilia arriva dice che non ha alcuna intenzione di lavorare anche perché non sta percependo alcuno stipendio è incinta non sta tanto bene ma soprattutto prima devono risolvere la faccenda della casa per Claudio c'è ben poco da risolvere le uniche case che di fatto sono alla loro portata sono i due monolocali nient'altro Marilia a questo punto si lamenta anche giustamente dicendo non ho neanche un tetto sopra la testa non ho una casa dove stare Claudio le risponde sì è vero attualmente è così ma stiamo tentando di fare qualcosa non siamo qui con le mani in mano stiamo cercando Marilia a questo punto si arrabbia dicendo a Claudio testuali parole tu devi dare a me quello che hai dato a quella cornuta di tua moglie altrimenti la chiamo e le racconto tutto Claudio le chiede di non usare determinati appellativi o toni quando parla di sua moglie Marilia quindi scatta si volta e cerca di schiaffeggiare Claudio l'uomo però afferra il suo braccio la ferma e le tira un marrovescio in faccia facendola cadere per terra lo dimostra l'orecchino di Marilia ritrovato sulla scena del crimine è una ferita proprio sul dorso della mano di Claudio Grigoletto dopo aver fatto ciò Claudio si agita e quindi corre in bagno col fine di calmarsi e di rinfrescarsi a quanto dice in tribunale non solo non ha mai tirato uno schiaffo a una donna ma neanche ad un uomo ecco perché preferisce allontanarsi calmarsi non ha mai avuto una reazione del genere prima quando esce dal bagno è convinto che Marilia sia andata via e invece la trova in piedi tra l'ufficio e l'antibagno nella mano sinistra stringe una forbice aperta mentre in quella destra stringe una guida di legno con cui tenta di colpirlo Claudio riesce a evitare entrambi i colpi disarma Marilia e la afferra per il braccio destro tirandola verso di sé Marilia in questo modo va a sbattere contro lo stipite della porta cade per terra prova a rialzarsi ma non ci riesce quindi cade nuovamente sul pavimento è proprio quella caduta stando alle parole di Claudio che le provoca una grossa ferita al cranio a processo infatti dice lì ho iniziato a vedere sangue io ero in piedi la guardavo ma non riuscivo a reagire il sangue continuava ad aumentare Marilia aveva iniziato a prendersi i capelli come se se li volesse strappare però io in quel momento ho visto tanto sangue per terra che usciva si toccava la faccia anche quella ricoperta di sangue il pavimento era pieno di sangue poi Marilia aveva iniziato ad agitarsi vedeva le sue gambe che cominciavano a tremare mentre continuava a toccarsi il volto la difesa chiede quindi che ha fatto dopo? dopo una pausa in cui sembra che Claudio stia tentando di visualizzare la scena nella sua mente riprende a parlare in quel momento sono in piedi e fatico a guardarla fino a quando noto che le gambe iniziano a tremare quindi mi sono abbassato e le ho messo le mie mani sul volto gli ho afferrato la testa poi ho spostato entrambe le mani sul collo e ho stretto questa quindi è la versione di Claudio Grigoletto è vero ha ucciso lui Marilia non lo nega ma non certo con premeditazione l'ha fatto in un impeto di ira di follia questa è la teoria della difesa a questa tesi però l'accusa non crede proprio per niente infatti sostiene che quando Claudio arriva in ufficio la mattina del 29 agosto ha già maturato la volontà di colpire a morte Marilia l'accusa a questo punto contesta alcuni dati del racconto di Claudio che stando ai fatti non tornano il PM infatti chiede a Claudio mentre Marilia soggiornava all'hotel Sullivan lei quante volte la andava a trovare? Claudio sostiene che andava a trovare Marilia più o meno due volte al giorno per la pausa pranzo e nel pomeriggio prima di andare alle lezioni di volo se il ristorante dell'hotel era aperto mangiavano lì se invece era chiuso Claudio era solito portare in camera da letto di Marilia dei tosto o dei panini che mangevano insieme a questo punto il PM dice che diversi inservienti dell'hotel Sullivan hanno detto chiaramente che Marilia era fortemente debilitata non riusciva a tenere nulla nello stomaco vomitava qualsiasi cosa mangiasse era in delle condizioni così tanto problematiche che l'inserviente era solita portarle davanti alla camera la colazione tutte le mattine inoltre l'accompagnava anche in bagno per farle fare i suoi bisogni insomma per aiutarla a lavarsi Marilia era così debilitata da non riuscire neanche ad andare in bagno da sola quindi Claudio sostiene che con lui Marilia mangiava anche al ristorante dell'hotel arriva una domanda che mi sorge spontanea ma se Marilia era così tanto debilitata come Diamine ha fatto a guidare il giorno della tragedia senza alcun problema fino all'ufficio di Gambara a me questa situazione pare assurda ma non sono esperta intanto vi dico che la difesa in tribunale sostiene che sullo stato di salute di Marilia sia stata fatta un po' troppa enfasi chiaro la ragazza non era in forma smagliante ma ciò che hanno asserito alcuni testimoni va decisamente ridimensionato secondo la difesa ma io ora chiedo a voi per quanto ne sappiate una donna così debilitata da aver bisogno di essere accompagnata in bagno da qualcuno riesce a guidare tranquillamente per 50 minuti passiamo dunque ora ad un altro punto cosa ha fatto Claudio Grigoletto dopo aver commesso il fatto dopo aver ucciso Marilia ebbene Claudio dopo aver commesso il fatto rimane lì fermo in piedi come una statua sente il ventilatore alle sue spalle che è acceso l'uomo guarda Marilia e non riesce a credere a ciò che ha fatto è tremendamente confuso quindi Claudio in uno stato di confusione totale versa sul corpo di Marilia dell'ammoniaca dell'acido muriatico e dell'acqua perché lo fa Claudio a processo dice di non saperlo quello che ha trovato in ufficio sul mobile ha versato in pratica poi copre il corpo di Marilia con dei giornali che si bagnano ovviamente infine dà fuoco a questi giornali peccato che Claudio abbia sbagliato prodotto perché l'ammoniaca non è infiammabile successivamente mette tra le mani di Marilia un accendino anche se lui sostiene di non averlo fatto Marilia di certo non ha potuto alzarsi per prenderlo con le sue gambe quell'accendino quindi deve essere per forza stato Claudio a metterglielo in mano chi altri se no Claudio quindi prende il papagallo svita il bulone della caldaia e inizia a far fuoriuscire del gas Claudio vuole far semplicemente saltare tutto in aria? Probabile ma a quanto dice a processo lascia una finestra aperta per evitare che ci avvenga alle 17.15 l'uomo va a Bedizzole per una lezione di volo ha il programma degli addestramenti la domanda qui è dopo tutto ciò che Claudio aveva fatto come era possibile che avesse assunto un atteggiamento di tal tipo mantenendo tutto sommato un comportamento normale Claudio Processo dice sono arrivato al campo di volo non credeva a quello che avevo fatto ma sapevo di averlo fatto avevo aperto il gas sapevo che quel corpo prima o poi l'avrebbero trovato e sapevo che avrebbero trovato anche me non è che io ero sull'aeroplano come se nulla fosse accaduto sapevo ciò che avevo fatto sapevo anche quali sarebbero state le conseguenze prima o poi mi sarebbero venuti a prendere ma allora perché quando inizialmente i carabinieri lo interrogano Claudio nega nega di aver avuto una relazione con la povera Marilia nega di essere il padre del figlio che portava in grembo quando c'era addirittura l'analisi del profilo genetico del feto Claudio in tribunale sostiene che ha negato fino a quando ha potuto perché sostanzialmente voleva semplicemente guadagnare un po' di tempo da passare con la sua famiglia Claudio dunque ha semplicemente rimandato l'inevitabile domanda questo è stato un omicidio di impeto o un omicidio premeditato ricordiamoci che in questo caso l'unica persona che può parlare è l'imputato Marilia ahimè non può dare la sua versione dei fatti vi sottolineo in oltre di nuovo che l'imputato è definito da tutti come un uomo che mente un uomo che dice le bugie la domanda sorge spontanea in questa sede durante questo processo sta dicendo il vero che che se ne dica a mio parere la modalità del crimine è disorganizzata non mi pare che Claudio abbia agito con razziocini o abbia calcolato le sue mosse lo dimostra anche il fatto che mentre Marilia era senza vita lui camminava per l'ufficio avanti e indietro calpestando il sangue che neanche era riuscito a pulire del tutto Claudio ha versato addosso a Marilia senza vita dei liquidi secondo la sua versione l'ha fatto a caso in uno stato di confusione ma mettiamo caso che non sia così Claudio in quel momento ha afferrato quei liquidi e li ha versati con consapevolezza e lucidità sul corpo di Marilia perché versarle addosso delle sostanze non infiammabili compresa l'acqua per tentare di darle fuoco non riuscendoci Claudio a questo punto decide di aprire il bullone della caldaia per far fuoriuscire del gas ma apre anche una finestra se non vuole far saltare in aria tutto perché svita quel bullone di quella dannata caldaia le azioni di questo uomo a me non paiono quelle di un esperto assassino meticoloso ma neanche di un assassino improvvisato che però ha organizzato il piano oltre a ciò la moglie di Claudio Jessica viene a scoprire effettivamente del tradimento dopo la morte di Marilia più precisamente la sera del 2 settembre e non perché gliel'abbia confessato suo marito è la polizia a mostrarle alcune foto presenti sul cellulare di Marilia in questo momento sia Claudio che Jessica sono in caserma Claudio ancora non ha confessato assolutamente l'omicidio di Marilia Jessica dunque dice a Claudio Claudio hanno le tue foto nel cellulare di Marilia quando è che sono state scattate quelle foto lì? Claudio risponde non so che foto siano io non le ho viste Jessica ribatte lei che bacia a te tu con le mutande giù lei in mutande reggiseno quando è che è successo? Claudio risponde prima del Brasile Jessica gli chiede cosa avevi te in quei due mesi che non stavi sereno a casa? ti chiedevo in continuazione hai un'altra? hai un'altra? e tu no figurati quanto è durato? Claudio ribatte poco Jessica insiste quanto è durato? Claudio ripete poco pochissimo giuro Jessica a questo punto dice ed io io davvero a casa con la tua bambina incinta cosa ti è saltato in mente Claudio? dimmi cosa ti è saltato in mente guardami negli occhi e dimmi cosa ti è saltato in mente? Claudio a questo punto dice la verità che è una stronzata Jessica ribatte te ne sei pentito o no? è stato bello? Claudio a questo punto dice ti prego non togliermi le bambine Jessica ripete te ne sei pentito? Claudio ribatte eh non è stato per niente bello non togliermi le bambine ti prego ti prego Jessica risponde io ci posso passare sopra lo sai che io ti amo lo sai che io ti voglio bene io fosse per una scappatella chiudo gli occhi faccio finta di niente andiamo avanti io te e le bambine non ti lascio nella merda adesso vedi ti sto vicino ancora sia chiaro però tu non fare stronzate capito? la scappatella può anche passare Claudio a questo punto dice ho paura che non torno a casa stasera ascolta se per caso mi tengono qua io non l'ho uccisa questo ricordatelo non credermi capace di una cosa di questo tipo e verrò a casa se tu mi vuoi a casa la stessa sera poco prima Claudio in Grigoletto continua ad essere in caserma non ha confessato l'omicidio non ha confessato che Marilia fosse la sua amante e né che la ragazza aspettasse un figlio da lui nel frattempo sua moglie non è ancora arrivata quindi in attesa che la moglie di Claudio arrivi in caserma i carabinieri decidono di farla incontrare con Paolo Zadro un uomo che aveva avuto una breve relazione con Marilia davvero breve era durata circa un mese e mezzo Paolo Zadro quindi entra nella stanza si siede posa una mano sulla spalla di Claudio e gli chiede come stai? che cazzo è successo? Claudio risponde ma che cazzo ne so sai se ci fosse stato un incidente in macchina una disgrazia eccetera dici vabbè sai che c'è? prima o poi arrivi a dire me ne faccio una ragione ma pensare ad un omicidio dentro al mio ufficio non so se riuscirò a tornare dentro a quell'ufficio Paolo si limita a dire beh ti capisco poi dopo qualche minuto aggiunge tu sapevi che io e Marilia per un periodo ci eravamo visti? lo sapevi? Claudio risponde sì in effetti Marilia mi parlava continuamente di questo Paolo che era rimasta incinta tutto quanto però non ha mai voluto tirar dentro te quando era rimasta incinta poi lei ultimamente continuava con questo Paolo 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 però io non mi sono mai azzardato a chiederle se eri te sinceramente non me ne fregava un cazzo Paolo risponde ho capito però vedi io sono stra sicuro che non potesse essere mio figlio però a questo punto veramente ti vengono in mente tutte le cose del mondo e dici ma che sia stato davvero così? secondo l'accusa questo video dimostra la capacità e la lucidità criminale di Claudio che in effetti in quel fragente si dimostra tranquillo come un impiegato alle poste non sembra agitato non alza la voce anzi parla con una voce estremamente pacata peraltro cerca in continuazione di sfuggire dalle proprie responsabilità addebitandole ad altri secondo la difesa però è l'esatto contrario questa conversazione tra Claudio e Paolo Zadro dimostrerebbe lo stato confusionale in cui era caduto Claudio Grigoletto dopo aver ucciso Marilia senza volerlo allora ragazzi ci sono tante cose che i miei occhi non tornano e onestamente penso che questa situazione possa essere andata in due modi distinti uno Claudio premedita tutto alla perfezione decide di far fare a Marilia il check out dall'hotel Sullivan non perché vuole farla stare in un hotel più vicino all'ufficio bensì perché ha già deciso di farla fuori arriva qui una domanda come? non pensa a procurarsi un'arma? un coltello ad esempio? no Claudio uccide Marilia ma a causa di alcuni spintoni che le fanno sbattere la testa contro lo stipite della porta fino a farla cadere a terra poi la strangola Claudio non premedita un bel niente non ha idea che quel giorno commetterà un atto così terribile e lo fa a causa di un raptus secondo l'accusa dunque è accaduto questo il 29 agosto Claudio fa fare check out all'hotel Sullivan a Marilia e la fa andare in ufficio posto in cui lui è già lì ad aspettarla Marilia arriva Claudio prova a stordirla con l'ammoniaca la ragazza si gira e lui la colpisce con un marrovescio in quelle condizioni la ragazza non è che cade a terra bola a terra si ferisce alla testa e Claudio vedendo la situazione la strangola Marilia ovviamente si agita e il sangue schizza sulla parte bassa dei muri l'azione violenta dunque avviene mentre Claudio e Marilia sono a terra questo è un dato incontrovertibile successivamente Claudio è così tanto sconvolto che riesce a recarsi alla pista di volo di Bedizzole si fa una doccia e inizia le sue lezioni di volo poi torna a casa e sta con la sua famiglia come se nulla fosse ecco diciamo che Claudio non appare così distrutto e sconvolto se guardiamo la situazione da questa prospettiva i dubbi vengono no? hai commesso un delitto così atroce e vai a fare lezioni di volo come se nulla fosse secondo l'accusa non esistono altre letture per questo caso l'omicidio Claudio l'ha premeditato ha semplicemente fatto successivamente un errore dopo l'altro nel compiere quel delitto è un fatto Claudio Grigoletto ha distrutto tre famiglie la sua, quella di sua moglie e quella di Marilia per queste ragioni il PM chiede l'ergastolo la difesa invece sostiene che Claudio a seguito dell'omicidio ha posto in essere una serie di comportamenti disorganizzati probabilmente a causa del fatto che lo stesso era traumatizzato dall'evento che aveva vissuto perché mai Claudio nella sua esistenza infranto delle leggi Claudio non era un delinquente quindi davanti a una scena del genere è chiaro si è andato in tilt e infatti Claudio chiude la porta dell'ufficio prima di uscire questa è una cosa assolutamente strana perché non lasciare la porta aperta? in questo modo il colpevole si sarebbe quantomeno potuto introdurre dall'esterno lascia tracce sulla scena del delitto lascia il suo DNA ovunque il punto è che Claudio davvero diciamolo chiaramente avrebbe avuto tutto il tempo di disfarsi del corpo della povera Marilia la poteva far sparire poteva tornare in ufficio pulire tutto per bene e con attenzione chi avrebbe mai collegato Claudio alla dipartita di Marilia? quando sarebbe stato ritrovato il corpo di questa ragazza? come poteva pensare Claudio di commettere un omicidio del genere di farla franca? l'omicidio con premeditazione indica un colpevole che commette un delitto tentando di non farsi scoprire Claudio si era fatto scoprire subito la prima corte d'assise di Brescia dichiara Claudio colpevole e lo condanna all'ergastolo Claudio secondo i giudici ha premeditato l'omicidio in appello la condanna viene riformata a 30 anni e viene anche confermata in Cassazione nella sentenza c'è scritto a chiare rettere che probabilmente Claudio non aveva lasciato Marilia bensì le ha promesso che avrebbe divorzato da sua moglie per stare con lei ecco spiegato per cui Marilia voleva comprare una casa più grande perché in ballo c'erano dei progetti di vita Claudio probabilmente aveva fatto delle promesse a Marilia promesse che a me non è riuscito a mantenere detto questo ragazzi e ragazzi ho finito di parlare in questo video spero che questo video possa essere stato di vostro interesse conoscevate questo caso? fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti detto questo io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazze ciao ragazzi ciao